Se qualcosa si potesse fare pur di riaverlo... Elisabeth... Tu la faresti? E tu? Che faresti? Che sarebbe disposto a fare ognuno di voi? Fareste vela ai confini del mondo e ben oltre, pur di riavere il brillante Jack e la sua preziosa perla. Sì. Sì! 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 Sì. Sì. D'accordo. Ma se dovrete sfidare le infestate e arcane coste dei confini della terra... ...allora vi occorrerà un capitano. Uno che conosca quelle acque. Orso, ditemi... ...che ne è stato della mia nave? Sì. Ma siete in quelo pitch! No! Sì!